c'è la fascia dietro io scrivo quote molise perchè vi metto sempre la dicitura e così vi ritrovo va bene poi comunque gli do pure all'organizzazione che hanno un portatile e comunque li pubblico tutti quanti vuoto e molino a retromarcia vai di là vai di là ancora tanto buono l'uomo io faccio i video o 700 questo è appoggiato allo sterzo è appoggiato Grazie.